Tutti gli anni, anzi due volte anche in un anno, ci troviamo molto bene, telefoniamo da Bolzano. Da Milano, io sono 60 anni che vengo perché mio marito era di Pesaro, mi trovo benissimo. Qui è 10 anni che vengo, perciò... Mi piace molto Pesaro insomma? Sì, molto. Peccato che quest'anno manca la musica che c'era sempre. E' tanti anni che vengo, 7-8 anni, mi trovo molto bene, mi piace l'albergo, mi piace il paese, mi piace tutto. Da dove viene signora? Da Modena. Tutti gli anni qui a Pesaro? Sì, tutti gli anni qui a Pesaro. Come l'ha trovata questa città? Molto, molto carina, mi piace tantissimo, abitiamo vicino Roma, comunque complimenti, molto pulita. Io faccio parte di un gruppo, sicché non è merito mio se ho trovato questa città, è merito dell'agenzia, l'agenzia Viaglie di Arezzo. Ah, lei viene da Arezzo? Vengo da Arezzo. Ed è la prima volta che viene a Pesaro o viene tutti gli anni? Perlomeno in vacanza sì, ci sono passato. Come ha trovato questa città? Ancora poco, perché ho sempre perso questo tempo, spiaggia, il mare eccetera. Avevo intenzione ad andare in centro, fare una giratina col trenino, visto che qui c'è poco da vedere. Vengo da Terni, è la prima volta che vengo qui. Come il mare, tutto quanto è, solo che sto un po' disagiato, perché per trovare un negozio tocca fare un paio di chilometri a destra e un paio di chilometri a sinistra, un'eticola, una bottega così, quello è un po' un disagio.